del canale buona giornata buona vita buon essere su questo pianeta benvenuti come state spero bene è un po che non ci sentiamo ma d'altronde questo canale è ormai ricco di video ce ne sono veramente tanti ed è anche inutile essere ripetitivi per cui è vero come mi scrivono in molti che tempo fa io pubblicavo più video però è anche vero che adesso avete tanto di quel materiale che essere ripetitivi è inutile direi no per cui si fa un video faccio un video quando ho qualcosa da dire qualcosa che vorrei regalarvi che vorrei esprimere che vorrei condividere con voi altrimenti credo che il ripetersi possa anche risultare noioso e poco piacevole quindi si fa un video nuovo quando si ha qualcosa da dire su un argomento che è vero magari si è anche già trattato però si ha un pensiero nuovo o quantomeno una forma nuova che possa esprimere questo pensiero già trattato in maniera diversa oggi di cosa voglio parlarvi oggi voglio parlarvi delle religioni facendo rifacendomi un po anche a quanto è successo la scorsa settimana a parigi a questi fatti è stata attribuita una matrice religiosa vero o non vero religiosa si religiosa no politica strumentalizzata ci può stare tutto però è giusto secondo me in questo caso visto che poi il tutto è stato attribuito a una matrice religiosa anche se personalmente sono convinta che non è solo la matrice religiosa ma c'è dietro la solita strumentalizzazione come in tutti questi attentati non vengono cavalcati un po da chi li fa comodo da certe da certe da certe matrici politiche ma non stiamo a sindacare su quello andiamo un po vedere invece le religioni è poi così vero che le religioni portino la pace nel mondo e ovunque o o possono essere anche causa di scontri di guerre di disaccordi e molti diranno sì però la nostra no la nostra riferendosi alla nostra legione la legione cattolica e qui bisognerebbe aprire un capitolo veramente ampio e approfondire determinate cose dove altro che un video bisognerebbe scriverci un libro e siccome non ho intenzione di scrivere un altro libro perché non mi hanno ancora pagato il primo aspetto aspetto un attimo vediamo un po al di là di quello voglio invece mettere alla vostra attenzione e provare a rifletterci insieme sul tema delle religioni cosa sono le religioni sono un raccontarci dio in maniera diversa ogni ogni religione ogni cultura ogni popolo si è fatto il suo dio e questo dio deve necessariamente andare d'accordo e compromettersi con la radice culturale del popolo stesso le abitudini politiche del popolo stesso sociali culturali quindi un dio fatto su misura ogni popolo ogni popolazione ha il suo dio ma cos'è cioè voglio dire abbiamo fatto a fette dio l'abbiamo fatto su misura ma cos'è dio quindi sostanzialmente le religioni non ci insegnano a capire realmente chi è dio ci insegnano a capire il dio in cui si rappresentano si rispecchiano e come possono esistere tante religioni se esiste un dio solo vuol dire che le religioni non sono assolutamente non sono assolutamente l'espressione di dio l'espressione di dio è ben altro però a noi non ci viene insegnato dio ci viene insegnata la religione e siccome la religione non è dio purtroppo se non siamo fortunati e particolarmente dotati di un certo patrimonio spirituale interiore rischiamo durante questo nostro cammino terreno di non capire dio di non conoscere dio ecco perché io vorrei abolire tutte le religioni e qualcuno potrebbe dire poi succede lo scompidio chi ci insegna dio quelli che esattamente ve lo stanno insegnando adesso non fanno parte delle religioni esattamente la stessa cosa non cambierebbe nulla e voi direte ma chi sono queste persone? ce ne sono parecchie cercatele sono tutte quelle persone che parlano di spiritualità in maniera diversa rispetto alla religione possono essere persone che praticano psicoterapeutiche che praticano ipnosi regressiva possono essere personaggi famosi che insegnano tramite i loro scritti come Brian Weiss come Angelo Bona e come tanti altri cercatele queste persone in libreria leggete i loro libri imparerete qualcosa di importante sulla spiritualità forse leggendo questi libri imparerete a scoprire che la spiritualità dimora in noi stessi che noi siamo fatti di materia e di spirito che abbiamo un corpo materiale e un corpo astrale nessuno ve le spiega queste cose nessuno ve le spiega queste cose la nostra religione ci spiega che il nostro corpo risorgerà ma cosa rimane del nostro corpo quando noi moriamo? beh, è semplice da verificare non so se vi è mai capitato di dover trasferire qualcuno o dover assistere alla risumazione a qualche risumazione vedete un po' cosa rimane del vostro corpo magari dopo 20, 30, 15 a seconda delle situazioni di cimiteri quel corpo non potrà più risolgere perché non c'è più si è consumato è divenuto polvere scheletro a seconda delle situazioni e l'anima se n'è andata è volata non c'è più chissà dov'è è andata via lontano fuori dallo spazio dal tempo troppo spesso anche dalla nostra capacità di comprendere troppo spesso perché non conosciamo non capiamo non impariamo la spiritualità che risiede in noi allora forse vuoi dire che il nostro corpo è mortale e la nostra anima no? allora forse vuoi dire che anche il titolo del tuo libro come volversi senza invecchiare non si riferisce all'invecchiamento del corpo ma si riferisce all'invecchiamento dell'anima grazie a Dio qualcuno c'è anche arrivato molti purtroppo no ma qualcuno c'è anche arrivato noi dobbiamo imparare a conoscere Dio dentro di noi non tramite le religioni perché sennò non conosciamo Dio le religioni a parer mio personale sono solo un mezzo di strumentalizzazione popolare Dio va conosciuto in tutt'altro modo provate a insegnare magari un bambino a scoprire Dio quando prova felicità nel compiere una buona azione o nel ricevere qualcosa da qualcuno perché lo si scopre nel dare e nel ricevere provate a lavorare su questo sulla gioia sulla felicità sulle cose belle certo il mondo è fatto di cose belle e di cose brutte non di cose brutte e di cose belle oggi apriamo un giornale una tv ascoltiamo un notiziario per informarci e scopriamo che il mondo è fatto di cose brutte e di cose belle ma è esattamente il contrario è vero che c'è gente che distrugge e uccide è anche vero che c'è gente che salva vite ma di chi salva vite se ne parla ben poco rispetto a chi distrugge e uccide perché è tutto questo? per tenerti nella paura nel dubbio nell'incoscienza nell'incapacità di intendere e di volere per poterti strumentalizzare e manipolarti ecco perché ti viene trasmessa prevalentemente negatività perché se ti venisse trasmessa prevalentemente positività sei contento ragioni apri la mente ti interroghi ti interroghi elabori risolvi cresci pretendi di sapere desideri sapere vuoi sapere vuoi conoscere e automaticamente non sei più manipolabile e questo diventa un serio problema da evitare nel modo più assoluto allora impariamo a conoscere Dio a conoscere la nostra anima perché è lì che risiede risiede ovunque Dio non è che cambia muta e si traveste a seconda delle popolazioni è unico è nell'energia cosmica stessa Dio nel cosmo nei pianeti nelle galassie è ovunque è l'essenza spirituale del mondo Dio è l'essenza spirituale del mondo e quindi la nostra non possiamo in alcun modo allontanarci da Lui perché siamo fatti di Lui anche noi abbiamo la nostra parte di Dio che è la nostra anima va riconosciuta talvolta nelle nostre vite dobbiamo compiere dei percorsi tortuosi commettere certi errori per capire di intraprendere poi un certo percorso che sia formativo e di crescita quindi impariamo a conoscere Dio non dalle religioni non da chissà quale induzione popolare strumentalizzata impariamo a conoscere Dio dalla nostra anima dal nostro cuore dalla nostra meditazione dal nostro pensiero dal nostro proporci dal nostro essere noi stessi non dalle religioni tutte non ne escludo una strumentalizzate questo è il mio pensiero di oggi se volete darmi il vostro pensiero potete scrivere a evolutore chiocciola gmail punto com ne possiamo parlare se volete trasmettermi anche il vostro pensiero con un piccolo video con un piccolo file audio lo si può fare lo si può pubblicare tranquillamente il mio canale è aperto a tutti lo sapete e per il momento si può concludere qui vi auguro una buona giornata una buona vita un buon tutto quello di cui voi necessitate scusate se la voce oggi non è un granché ma mi sono svegliato un po' con un pochino di tosse e un po' di di catarro stamattina quindi forse ritorno raffreddore o forse anche no speriamo non lo so staremo a vedere staremo a sentire buona vita a tutti diffondete il canale di francesco bonomi i miei video i miei pensieri comprate il libro come volversi senza invecchiare tanto non mi pagano ma voi compratelo lo stesso e che la vita prosegua per ognuno di noi nel migliore dei modi grazie